Questa scienza in questo teatro però con molto affetto nei confronti dell'Università di Bergamo e del Rettore Stefano Palleari e di tutti i professori dell'Università che quest'anno con Bergamo Scienza hanno trovato una fantastica sinergia o forse si può dire addirittura una sinapsi molto interessante. E io trovo che sia per noi bellissimo che questo fatto di conferire il dottorato oggi in questo bellissimo posto a tanti giovani sia all'interno del nostro festival perché noi abbiamo sempre avuto uno sguardo particolare nei confronti dei giovani e infatti nel nostro logo che vedete un po' dappertutto c'è un occhio, che è un occhio chiaramente di un ragazzo e mi piace che appunto i giovani dottori e tra poco dottori siano protagonisti di questa giornata e quindi a loro faccio solo una raccomandazione di rimanere sempre molto curiosi e sempre anche un po' irrispettosi perché la scienza in qualsiasi disciplina è rivoluzionaria è una rivoluzione pacifica come mi piace dire ma bisogna mantenere questa voglia di cambiare e di non essere sempre uguali. Grazie a tutti e grazie.